Eccoci qui, siamo arrivati al pub dove ci esibiremo con una tasterista che non abbiamo mai visto. Come facciamo a riconoscerla? Magari lei. Lei me lo sente. Siete voi? Sì, siamo noi. Sei tu? Sì, ben arrivati. Io sono Fiammetta. Ah, Fiammetta, ecco perché sento caldo. Io sono Alan, il batterista. È spiritoso. Io sono Luca, il bassista. E tu? Chitarra e voce. Hai anche un nome. Sì, vabbè, certo, Marco. Ragazzi, io direi andiamo a provare qualcosa? Sì, dai, Marco. Sì, dai, Marco. Sì, dai. Bravissima! Bravo, Marco! Valentina. Valentina! Chi è sta Valentina? È una lunga storia, ma se entri nella nostra mente la racconto. Che è tantissima. Ciao! No, 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 no.